A vederli giocare, correre, divertirsi ci si chiede perché indicarli come disabili e anzi sorge il dubbio che i disabili siamo noi, i cosiddetti normodotati. Ma qui in questo campetto del CUS di Foggia le barriere non ci sono, a partire da quelle mentali. Si chiama Spinability. Questo progetto voluto e realizzato dal CUS Foggia e dall'Università di Foggia, attività dinamiche e funzionali per piccoli studenti con disabilità ma anche per altri bambini e familiari. L'obiettivo del progetto nasce proprio sull'inclusione sociale e il rapporto tra ragazzi normodotati con ragazzi diversamente abili. Come CUS Foggia siamo alla seconda edizione di questo progetto e verrà articolato in tre attività quest'anno. La palla a mano come oggi stanno facendo i ragazzi per un paio di mesi, poi ci saranno alcuni giorni dedicati alla vela in cui verranno coinvolti gli studenti universitari sia normodotati che diversamente abili e poi ci sarà una giornata conclusiva a settembre di Orienteering presso la Villa Comunale. Sarà un grande evento dove vogliamo raccogliere sensibilità diverse, associazionismo e promuovere soprattutto questi stani stili di vita legati all'inclusione sociale. Benefici non solo per i ragazzi? Assolutamente, anche per le famiglie, anche per coloro che si approcciano allo sport in senso più ampio. E dal 14 giugno partono i giochi estivi, i laboratori creativi, sport, intrattenimento fino a fine luglio e poi a settembre per altre due settimane in collaborazione con l'associazione ai fan. Non ci vuole molto a capire che per loro, che fra l'altro hanno trascorso al chiuso parecchi mesi, questi momenti rappresentano la gioia pura. La maestra Luciana, la mia maestra d'italiano, mi ha detto che sono un pilastro. Eh beh, ma si vede, sono d'accordo. Ciao, vai a fare lo sport adesso, dai, facci vedere. Rugby! Rugby! Palla a mano! Bravo! Rugby e palla a mano? Sì. E palacanestro pure o no? Caccio, sì! Pure, bene! Più facile o più difficile lavorare con l'altro? Beh, sicuramente è un'attività molto divertente. C'è entusiasma e ci crea veramente grande entusiasmo con tutti gli educatori. È una cosa veramente brillante e splendida per noi nel nostro sociale. Quando torna a casa è più contento o più stanco? Diciamo che la stanchezza viene coperta dalla felicità, dalla contentezza per il lavoro che stiamo facendo.